12 anni in schiavo è un film del 2013 diretto dal regista britannico Steve McQueen e tratto dall'omonima autobiografia del 1853 di Solomon Northup, un afroamericano nato libero ma rapito da due truffatori e poi venduto come schiavo. La pellicola ha vinto tre Oscar, quello per il miglior film, uno per la migliore sceneggiatura non originale e uno per Lupita Nyong'o come miglior attrice non protagonista. Il regista Steve McQueen già da tempo voleva girare una pellicola sulla schiavitù ma era in alto mare, non riusciva proprio a trovare la storia giusta. Un giorno sua moglie gli fece conoscere l'autobiografia di Solomon e lui rimase affascinato, non credeva proprio possibile di non aver mai sentito parlare di una vicenda così intensa e sbalorditiva, tanto da paragonarla per il suo valore storico al diario di Anna Frank. Per raccontare il fenomeno della schiavitù in maniera più realistica possibile, la produzione affiancò agli sceneggiatori un team di esperti di storia afroamericana, li fece parlare con i più anziani discendenti dei personaggi vissuti in quel periodo e in più ingaggiò un esperto linguista per insegnare agli attori i vari dialetti dell'epoca. Quando poi il film uscì nelle sale americane, gli storici unanimemente affermarono di non aver mai visto una pellicola rappresentare in modo così accurato la schiavitù. Anche lui dovrete chiamare padrone. Anche la scelta della location non fu per nulla casuale, infatti le riprese furono effettuate in Louisiana, negli stessi luoghi in cui si era svolta la vera storia. Pensate che anche l'albero delle impiccagioni era effettivamente quello utilizzato tanti anni prima, ancora oggi circondato dalle tombe degli schiavi assassinati. Per il protagonista Ejifor fu un'emozione quasi inspiegabile lavorare in quei luoghi. Ha raccontato di aver provato una strana sensazione, ovvero quella di sentirsi accerchiato dai fantasmi. La prima versione del film era molto più violenta rispetto a quella che vediamo oggi. In fase di montaggio vennero quindi tagliate parecchie scene. Sul set poi ci furono dei momenti di tensione perché gli attori erano sì immedesimati nei loro personaggi, però non erano abituati a così tante atrocità. Ad esempio sia Lupita Nyong'o che Michael Williams ebbero delle forti crisi di pianto, fin quasi a svenire, fecero allarmare davvero tanto la produzione. Frustala! Fagliela sentire che se la ricordi! Fra il film e il libro autobiografico ci sono naturalmente alcune differenze. Ad esempio la sequenza sulla nave in cui viene ucciso un prigioniero è stata inventata, senza contare che era impensabile per l'epoca, visto che il marinaio non era il proprietario dello schiavo. Nella pellicola poi vediamo pezzi supplicare Solomon di ucciderla per porre fine alle sue sofferenze, ma nell'autobiografia il vero protagonista racconta invece che fu la moglie di Epps, gelosa per gli impulsi sessuali che il marito provava verso la schiava, a cercare di convincerlo ad ammazzare la ragazza. Quella cagna nera la fai sparire subito da questa proprietà o ti giuro che me ne torno a Cennivill. Per la fotografia della pellicola il regista si è ispirato ai dipinti più violenti del pittore spagnolo Francisco Goya, i cui contrasti, secondo McQueen, sono perfetti perché portano l'osservatore direttamente al messaggio che le opere vogliono comunicare. Il regista inoltre ha voluto lavorare sui colori degli oltre mille costumi realizzati per il film. Pensate che chiese alla costumista di prelevare dei differenti campioni di terra dalle tre piantagioni, in modo da poter riprodurre esattamente le giuste tonalità di quei luoghi pieni di storia. Negro, in piedi! Che hai da guardare tu? Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che quando il film uscì nelle sale italiane i suoi manifesti scatenarono alcune polemiche. Come possiamo vedere infatti sia Pete che Fassbender sono molto più in evidenza, molto più grandi rispetto a Ejifor, il vero protagonista della storia, e le comunità nere protestarono perché secondo loro alla base di queste immagini c'era del razzismo. La casa di produzione però si scusò affermando che la loro era una semplice scelta commerciale perché in Italia Ejifor non era poi così famoso. Inoltre la colonna sonora del film è stata affidata ad Hans Zimmer, compositore americano noto per aver musicato pellicole come Il gladiatore, Il codice da Vinci e Il re leone. Oltre a Zimmer però hanno collaborato anche famosi artisti come Alicia Keys, Chris Connell e John Legend scrivendo dei brani ispirati alla pellicola. Infine, per interpretare meglio un uomo alcolizzato, Michael Fassbender ha chiesto al suo trucatore di farsi tingere i baffi aggiungendo anche un po' di whisky, in modo che gli altri attori quando lui gli recitava vicino reagissero naturalmente all'odore proprio come avrebbero fatto con un uomo che ha bevuto molto. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come 12 anni schiavo.